La Gran Sasso Acqua è la prima società in Abruzzo a presentare il piano di prevenzione delle emergenze idriche, una sorta di sistema di gestione integrata per la crisi idropotrabile, uno strumento che permetterà sia di monitorare lo stato delle risorse idropotabili in un'ottica di prevenzione, ma anche di individuare le misure e gli interventi da attuare in caso di emergenza di concerto con la protezione civile e regionale. Ci sarà un monitoraggio costante dello stato delle reti idriche con la possibilità di gestire sia le emergenze idriche ordinarie come le perdite da risolvere in giornata, sia quelle straordinarie, dettate ad esempio da crisi idrica, terremoto o dissesto idrogeologico. Diverse le soluzioni, con un modello di intervento dedicato che prevede unità di crisi, squadre di emergenza, dirottamento della risorsa idrica ad altre fonti di approvvigionamento tramite interconnessione con acquedotti non interessati dalla crisi, ma anche razionamento della risorsa idrica e uso di autobotti. La Gran Sasso gestisce 31 comuni e il piano presentato è uno strumento di pianificazione importante che verrà costantemente aggiornato. A presentarlo il presidente della Gran Sasso Acqua Alessandro Piccinini, il coordinatore dell'area tecnica Mario Di Gregorio, il responsabile della protezione civile regionale Silvio Liberatore. Specificamente questo piano fa riferimento all'approvvigionamento idrico ovviamente, ma prevede la possibilità di un intervento anche nel caso in cui si dovessero verificare delle situazioni gravi di difficoltà di approvvigionamento sul territorio o di pericolo. Su questo stiamo lavorando in particolar modo anche con la protezione civile, c'è la possibilità e ci lavoreremo a breve per stilare anche dei protocolli di intervento per quanto riguarda situazioni sul quale possa essere richiesta di adottare una procedura come quella di cui vi parlo. Le risorse le abbiamo stanziate all'interno del nostro bilancio e ovviamente ci auspichiamo anche che rispetto a quello che è la situazione del Gran Sasso che possano esserci da qui in avanti anche possibilità di finanziamento e da qui c'è un'interlocuzione che continua anche con il commissario Gisonni da questo punto di vista per cui sì la speranza è di poter avere anche progetti finanziati. Occasione per fare il punto anche sui sottoservizi. Il primo straccio dei sottoservizi è praticamente ultimato. In questi mesi la Gran Sasso Acqua ha lavorato su possibili soluzioni per sbloccare i procedimenti attuativi dei cinque lotti del secondo straccio. A breve la società presenterà una variante al comune dell'unico lotto avviato, il secondo, che ha subito in questi mesi blocchi da parte della sovrintendenza per alcuni ritrovamenti e lungaggini burocratiche. Se l'amministrazione condividerà l'approccio adottato si potranno modulare le soluzioni individuate per velocizzare il completamento degli altri lotti. Ovviamente la variante avrà un passaggio in giunta per l'approvazione.